Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la tuta di allenamento per la squadra Paris Saint Germain per la stagione 21 e 22. La tuta ha una colorazione grigio scuro con dettagli neri realizzata in poliestere super liscio con tecnologia traspirante integrata per un comfort fresco durante il riscaldamento è presente un colletto leggermente rialzato con chiusura a zip sia la giacca che i pantaloni sono rifiniti con il leggendario stemma del PSG e il classico simbolo della Nike lo stemma del club e il singolo Nike sono cuciti a maniche lunghe reglen con passanti per i pollici invisibili la maglia realizzata al 100% in poliestere nei pantaloni l'interno delle tasche e di colore blu cosa ne pensate secondo me è veramente molto bella fatta bene e nella mia classifica questa prende tre stelle e peraltro trovate in descrizione tutti i riferimenti per poterla acquistare ed è veramente di un'ottima manifattura con bellissimi dettagli che spero il video possa possa rendere ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg quella che vedete è una taglia media